Allora Gino D'Amando, questa sconfitta non va comunque a dare qualcosa di buono a questo Lone Nettuno, continua al momento negativo anche se avete molto da eliminare questa sera? La partita è stata giocata a un livello molto buono sia da parte nostra che da parte loro Purtroppo noi stanno dobbiamo fare i conti con l'arbitraggi e con un po' disattenzioni della retroguardia Giochiamo bene, mangiamo i gol, facciamo tutto quello che è possibile Poi come ci fanno due tiri ci fanno gol e allora comincia a diventare pesante Anche perché questa sconfitta genera un malcontento un po' generale anche dentro di noi Ecco, mister che cosa che fa più male? Questa sconfitta che allunga il momento negativo o questa sconfitta in questo derby? Questa è una sconfitta che mi dispiace veramente perché dopo 16 anni che faccio questo sport È la prima volta che due squadre di ansia mi battono Perciò per loro hanno rotto questo tabù che dopo 16 anni sono riusciti a vincere una partita Purtroppo è andata così e non è che posso fare recriminazioni su qualche cosa Ecco, mister, dopo tanti anni vedere che per questi ragazzi, adesso sono diventati uomini Comunque sei stato più che altro proprio un talent scout, ti fa scappare veramente l'emozione forte? Beh sì, guarda, dopo tanti anni ho giocato con questi ragazzi da quando sono piccolini Tra cui anche i 4-5 che giocano con le falasche sono stati con me, sono usciti con me e tutto quanto Diciamo che il calcio a 5 qua l'ho portato io e di conseguenza è una sconfitta che mi fa male, mi fa veramente male Ecco, mister, intanto mentre stiamo dialogando ci sta raggiungendo il capitano E' un altro ragazzo mio Colui che praticamente ti ha dato un po' questa punizione Lo salutiamo, ecco E' il gol dell'ex Il gol dell'ex, ecco, dicevamo tanti tanti rammariti Un ragazzo mio, eccolo, è cresciuto e mi ha punito Bene, è giusto comunque anche così, gli onori comunque vanno fatti agli avversari Comito, questa vittoria vi dà un po' morale anche perché voi fuori casa non avevate un cammino poi tra l'altro Felice No, non avevamo mai vinto, infatti questa è la prima partita, poi arrivata al derby fa ancora più morale per la squadra Ecco, diceva il mister si sente ferito questa sera, non tanto dai suoi ex, si sente ferito anche dal risultato Ma lui per molti di voi è stato veramente un talent scout, una parola giusta detta da parte lui che ha onorato voi Ma voi come potete rispondere? Beh, Gino lo conosciamo tutti quanti, è quello che qui in zona si è inventato il calcio a 5, è stato uno dei primi a portarlo se non il primo Io lo conosco da quando ho cominciato con l'allievi, quindi da 14 anni ho cominciato con lui Purtroppo mi dispiace per lui È stato un padre, un educatore, è stato tutto Per tutti quanti, per tutti quelli che giocano a calcetto sono tutti passati sotto le mani sue La maggior parte dei giocatori che giocano a calcetto, qui in zona e anche che sono andati fuori a giocare Sono passati tutti per le mani sue, a partire dai ragazzini fino ad arrivare a quelli più grandi Quindi un grazie a lui che ci ha portato avanti Sembra che l'ho fatto crescere bene, no? L'ho fatto crescere bene perché hai visto? Ma hanno pure punito, perciò Bene mister, lasciamo intanto Comito andare a farsi la doccia anche perché veramente qui comincia a calare la sera Mister, però c'è possibilità di vedere questo ragione e tu? Io ci credo fermamente anche perché c'è un gruppo bravo, 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 bravo nel vero senso della parola Purtroppo ci siamo trovati un po' amareggiati col fatto dello grasso E questa è stata una gran perdita perché è cosa che non me l'aspettavo Avevo fatto conto su determinati giocatori che poi mi sono venuti a mancare Però ci stanno le basi per riprenderci Non è che mi demoralizzo per questa sconfitta, assolutamente Bene, grazie al mister D'Amando, a me non resta altro che salutarvi Rimandandovi ai prossimi appuntamenti con Mondo Futsal Ringraziando anche alla regia Skip e soprattutto in montaggio Mirko Fabri, da Daniele Porcelli è tutto, la pure cordiale, buona serata Ringraziando anche a tutti